Sono 15.000 cacciatori abruzzesi messi in stand-by dal calendario venatorio 2023-2024 approvato dalla regione Abruzzo e Federcaccia Chieti denuncia restrizioni insensate e punitive rispetto alle regioni limitrofe. Anche l'ambito territoriale di caccia di Pescara dice il suo no al calendario redato dall'ufficio caccia dell'assessorato all'agricoltura e soprattutto rimarca lo sforzo economico della regione per l'approvazione del piano faunistico che viene così vanificato. In primo luogo per quanto riguarda la raccolta dei dati che instancabilmente ormai da anni gli ambiti territoriali di caccia effettuano per la gestione della piccola selvaggina stanziale e soprattutto della selvaggina migratoria. Sono negate inspiegabilmente e ingiustamente le preaperture alla selvaggina migratoria e l'apertura generale alla selvaggina stanziale che la legge fissa alla terza domenica di settembre. Quindi un primo profilo di criticità si evince dall'aver la regione rinunciato all'esercizio del potere discrezionale nella stesura del calendario venatorio totalmente delegato all'Istituto per la ricerca ambientale, ISPRA, anzi facendo talvolta delle scelte più restrittive delle indicazioni prudenziali che solitamente ISPRA fa. Non sarebbe bastato riprendere il calendario approvato delle regioni confinanti che, seppur perfettibile, non ha mostrato criticità ed ha garantito un corretto equilibrio tra le esigenze di tutela della fauna e il profigo esercizio venatorio. Ci sono ripercussioni per l'economia territoriale e per ovviamente il bolano economico che la presenza di cacciatori anche delle regioni limitrofe porta all'interno del nostro territorio abruzzese e quindi per l'economia regionale. Vi è di più, peraltro, che il mondo venatorio, nel quale io sono esponente, sta attivandosi soprattutto con le associazioni venatorie e in primis con la Federazione Italiana della Caccia per valutare tutte le iniziative in qualsiasi sede competente a tutela dei diritti e degli interessi dei cacciatori avverso questo calendario punitivo e restrittivo.